Ciao amici, benvenuti in un nuovo video di esercizi di tattica per principianti. Sceglierò una gamma di 1100 a 1200 su chess.com e faremo 5, credo. Credo che qualcuno mi abbia chiesto come si può scegliere. Credo sia possibile solo se paghi. Un consiglio che potrebbe servire è mia mamma è molto gentile e lei paga l'abbonamento come regalo di cumpleanno. Così lei non deve pensare cosa regalarmi, lei sa che questo mi serve molto e quindi è come win-win in inglese, no? Entrambi vincono, quindi potrebbe essere un'idea. Ma niente, cominciamo. Faremo 5 esercizi. Quindi, come sempre, le mosse forzate sono scacchi, catture, minacce. Sono super importanti perché forzano una risposta. Qua abbiamo un scacco solo, torre F1. E poi calcoliamo cosa possono fare o può fare il nero dopo. Muovere il re o bloccare, no? Rai qua perché F7 e G8 sono controllate dall'alfiere. O bloccare con l'alfiere. Se bloccano, mangiamo l'alfiere. Dunque, dopo torre F1, Rai è 7 unica. E, ok, dovevamo contare il materiale prima anche a due torri alfiere. Quindi, in questa posizione, di nuovo, gli scacchi. Abbiamo torre F7, scacco. E non solo scacco, è un doppio. Vinciamo un pezzo. Quindi credo sia la soluzione. Questi pedoni danno un po' di paura. Ma non credo che c'è rischio. Troppo rischio. Sì. Scacco, scacco. Qua si può pausare un po' per vedere se c'è una mossa migliore. Per esempio, mangiare qua. Ma l'alfiere controlla. Quindi, semplicemente, mangiamo l'alfiere. E' fatto. Scusate se potete sentire il cane fuori. Non credo, perché ho attivato la soppressione di rumore. Ok, siamo il bianco. Materiale in meno, tecnicamente, due torri hanno l'avversario. A, l'avversario, scacchi, c'è l'alfiere F8, torre F6 da considerare. Cominciamo con l'alfiere F8. Perché dopo, se il re va nella colonna G, abbiamo torre G7, che è un'enfilata, credo che si chiami. E' il contrario di un'inchiodatura. Dopo torre G7, vinciamo, quando muove il re, vinciamo la torre in G3, che sarà attaccato due volte. Quindi, l'alfiere F8, il re non vuole andare nella colonna G, ma non credo sia, non credo si possa evitarlo. O possino evitarlo, perché se il re H5 c'è torre per H7 scacco, il re deve andare qua, no? E abbiamo torre G7 in tutte le linee, quindi sì, è importante da notare che se il re va qua, con l'alfiere qua, possiamo enfilarlo. Non so se è un verbo. Quindi qua, 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 mangiamo la torre, pezzo in più, no? Ok, il terzo, ah, non dimenticare di mettere in pausa il video, ho dimenticato di dirlo, per cercare di risolverlo da solo, prima. Quindi, adesso la terza, credo, no? O quarta, già, già, non mi ricordo. Terza. Ok, materiale in meno, tecnicamente, o no? Perché abbiamo due padoni. Quindi, valutiamo, valutiamo, no, valutiamo. Scacchi, uno, due, tre. Ok. Ok, sto vedendo che, ok, dentro le minacce, quindi abbiamo questi scacchi, anche una cattura e le minacce. Minacce sono attacchi e mosse che hanno a che fare con tattica. Io ho una lista di quattro cose da tenere, da tenere in mente con la tattica. Pezzi indifesi, pezzi allineati, pezzi sovraccarici e pezzi intrappolati. Qua abbiamo pezzi allineati. Il re e la torre, quindi mi viene in mente anche alfiere b5, che sarebbe una inchiodatura. La torre non potrebbe muovere dopo, perché è inchiodato al re e sarebbe illegale. Quindi anche quello è un'opzione. Ma credo che sia meglio cominciare con donna h1, perché forza, re e f2. E poi abbiamo un altro scacco nella posizione, donna per g2, matto. La torre già adesso non difende g2, perché c'è il re in f2. Quindi un semplice matto in 2. Non dovevo menzionare forse questa, ma... Ok, è una cosa da notare sempre. Ma il bianco avrebbe questi scacchi, quindi è un casino. Anche questo da considerare. Non funziona, ma non credo. Ok, il quarto. Ok, interessante. Entrambi i re molto strani. Donna, cavallo, torre. Donna, cavallo, torre, alfiere. Pezzo in meno. Anche pedoni in meno. Quindi dobbiamo agire molto velocemente. Perché abbiamo svantaggio, no? Di materiale. Quindi scacchi. Uno, poi con le donne, però tutti perdono la donna. Quindi cavallo per d6, scacco. E c'è solo re e f8, no? Unica mossa. Perché la donna controlla qua e il cavallo qua. Quindi cavallo per d6, re e f8. E scacchi, nuovi scacchi. C'è torre h8, ma anche donna d8. Che sembra matto forzato. L'unica mossa è alfiere e8. E donna per e8, matto. Quindi, come sempre, quasi sempre in questi esercizi, anche negli esercizi più difficili, le mosse forzate sono sempre in alcuna, in una di loro. È la soluzione, no? Una linea, ovviamente, un variante. Ah no, wow. Mamma mia. Ho dimenticato che il re può andare qua. Ai ai ai. Ok, sono un po' stanco. Un po' di fortuna. Che anche io, a volte, muovo troppo veloce. Non considero bene tutte le mosse che dovrei. Quindi dopo re e g8, adesso calcoliamo. Credo che sia ancora questa mossa donna d8. Perché se l'alfiere blocca, lo mangiamo. E se la donna blocca, unica altra mossa. Abbiamo torre h8. Una bella mossa. Che si chiama rimuovere il difensore. Perché se il re mangia la torre, mangiamo la donna in f8, no? Spero che si possa vedere questa linea. Quindi dovremmo calcolare da qua, no? Cavallo per, re g8, donna d8, torre h8. Ah, sì sì. Dopo donna f8, torre h8. Ok. Scacco. Torre h8. Se il re va qua, mangiamo la donna lo stesso, no? Ok, ultima. Ai ai ai, matto in una. Quindi dobbiamo sempre vedere le minacce dell'avversario. Materiali in meno. Ma anche, abbiamo anche un attacco. Scacchi. C'è questa che sembra buona. Anche questa, torre e8. Torre 8 mi piace perché forza torre per. Poi abbiamo donna e8 scacco che forza, re h7 e g6, matto. Matto forzato, no? Sì, questo è una questione di praticare molto per avere questi schemi in mente sempre, che è un pedone in g6 o g3 molto forte. E la donna qua lo difende. Quindi tutto forzato. Ok, facciamo un altro, dai. 10 minuti. Rapidì, rapido. Tutto il materiale sulla scacchiera, quasi. Meno un pedone. Due per noi. Scacchi. C'è cavallo per f3. Quindi calcoliamo rapido questo, che succede dopo tutte le catture, se alfiere per abbiamo qualcosa. Abbiamo, non abbiamo alfiere per h2. La donna difende. Ma, vediamo. Ok, quindi dopo le catture, dopo gli scacchi, catture, non ci sono. E minacce. Possiamo minacciare matto, difficilmente. Possiamo minacciare i pezzi. Cominciando con il pezzo più forte, la donna, no? Vedo una mossa alfiere g4, che minaccia la donna. Attacca la donna, no? E dove va la donna? Non può andare qua, né qua, né qua, né qua. Quindi vinciamo la donna. Sempre dobbiamo calcolare, adesso, scacchi per l'avversario, no? Forse c'è un scacco che salva, o che vince per il bianco. Però non vedo scacchi, catture o contraminacce contro il re o donna, per esempio. Non ci sono. Quindi, pezzo intrappolato. Qua ovviamente mangiamo la donna, perché hanno mangiato il cavallo che defendeva l'alfiere. E ricatturiamo. Ok, niente. Spero che sia stato utile questo video. Non dimenticare di iscriverti al canale e di scrivere nei commenti se avete qualche dubbio. E ci vediamo nel prossimo. Ciao, ciao! Ciao!